Ero preoccupato. 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 punto di essere. Come la federa. Prep Root. Ero preoccupato. «Esto ericoltante. Ero preoccupato. Esaltante. È un solo paragrafo. I una magistrate. Oh, Santurbein, Umbasa. Oh, avete salvato il Venerabile. Vi sono profondamente grato. Mi avete sollevato da un grande peso. Oh, grazie a Dio. Umbasa. Con il ritorno di Sua Santità Santurbein, i maghi dovranno stare attenti. Grazie ai Suoi miracoli divini, voi baldi cacciatori di demoni non dovrete più ricorrere alla sola magia nera. Non è stupendo. I cacciatori di demoni dovevano attendere con ansia questa occasione. Avete avuto a che fare con Pecis la Iena? Mi auguro di no. È un uomo vile e depravato che non merita sostegno. Confido che un eroe virtuoso come voi selezioni con cura le persone che frequenta. A tal proposito, vi raccomando vivamente la compagnia dell'affabile Santurbein. Vi sono giunte le voci su Astrea della Valle della Corruzione. Si dice che lei e il suo fido cavaliere siano diventati demoni e guidino una banda di degenerati. Ma sono certo che le voci siano infondate. Laggiù è pieno di furfanti pronti a inventarsi sciocchezze del genere. Ma se le voci fossero vere, che sia dannata in eterno per aver disonorato il nome del Signore. Ma se le voci fossero vere, che sia dannata in eterno per aver disonorato il nome del Signore. Grazie a voi, ho trovato rifugio in questo nexus. Ora resterò via a pregare insieme ai miei discepoli per gli eroi che affrontano i demoni. Se volete una benevola protezione per la vostra lotta contro i demoni, portatemi le loro anime. Io le purificherò e con il loro potere creerò miracoli. Ah! Astrea della Valle della Corruzione. A quanto so, Santa Astrea dell'Ovest è scortata dal cavaliere Garle Villand. Non può essere stata corrotta dalle anime, protetta da un cavaliere così illustre e dalla sua corazza incantata. Sono di certo solo calugnie. Purtroppo i deboli sono inclini a sputar menzogne. Se siete un vero discepolo, dovete avere un talismano a immagine di Dio. A voletaria, i miracoli celesti avvengono grazie ai talismani. Dio ha concesso a questa terra maledetta un potere speciale. È un segno del nostro Dio per esortarci a combattere i demoni. Quando le arti oscure si diffusero nel mondo, tornarono i miracoli divini. La volontà di Dio è chiara. Dobbiamo vincere i demoni, annullare la maledizione di Boletaria e annientare i maghi che manipolano quelle anime maledette. Come sapete, le anime sono una fonte di potere corrotto emanato dai demoni. Re Allant fu sopraffatto dalla brama di tale potere e ha condotto Boletaria nell'attuale situazione. Il vecchio Freik e la Vestale non fanno eccezione. Dobbiamo vincere i demoni, annullare la maledizione di Boletaria e annientare i maghi che manipolano quelle anime maledette. Il vecchio Freik e la Vestale non fanno eccezione. Sì, capisco. Non posso certo obbligarvi a fare nulla, ma ricordate, le anime sono un potere demoniaco. non fanno eccezione. Sì. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti